a voi lotto vai facciamo vedere tutte le parti dell'astronavi simone se vuoi spiegare qualcosa tu qui abbiamo le basi giusto no queste sono le basi dell'astronavi ok la parte centrale dell'astronave sono tutte astronavi enterprise ncc tutte quante riprodotte tutte riprodotte non hanno codici giusto no 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 perché venivano rifatte per diverse grandezze pubblicità giusto queste lotto gigantesco cioè uscirono fuori quante navicelle più o meno tutte navicelle grandi e non parliamo delle navicelle piccole poi c'è anche questo prodotto qui che lampeggia ogni tanto c'è le varie luci se vedete bene con i suoni come vi faccio sentire sentire originali questi questi facciamo vedere la scatola qua c'è un misto con tutti i pezzi tutti da costruire tutti nuovi di qua item lotto comprende tutto ciò che vedere tutto ciò che